Uomo donna, donna. La luce sta nell'estere luminoso, irraggia il cosmo intero, cittadini del mondo cercano una terra senza confine. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio, finché non saremo liberi torneremo ancora, ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta per sempre. Immigrante legate in corpi di luce su pianeti immisivi. 4 su 4. Brava! Brava! Che atmosfera! Brava! Brava! Brava, brava! Che atmosfera ragazzi! Mamma mia! Brava! Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Alida Ferrarese. Sei meravigliosa Alida, sei stata straordinaria. Grazie. Donazione perfetta. A me personalmente mi hai fatto sognare. Grazie. Ci sei arrivata dritta, dritta, dritta al cuore. Grazie. È una canzone tra l'altro che di questi tempi ci dà un po' di speranza. È vero. È vero. È vero. È una canzone con grande contenuto e una grande atmosfera. È un timbro di voce molto interessante. Molto. 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 Grazie. Mi piace molto. Quando mi sono girato ho visto te al centro una dea e questi raggi azzurri che andavano e venivano. Una poesia. Il risultato finale è poesia. Bravo, bravo. La cosa bella è che la tua voce, cioè se ascolti solo la voce, ha 16 anni, 17 anni, con la voglia di volare. È la verità. Mi hai fatto viaggiare proprio in un universo parallelo. Ci mi hai fatto venire i brividi. Sei stata bravissima, raffinatissima e soprattutto ci hai messo molta intensità e femminilità. Sei stata pazzesca. Grazie. Bellissimo. Beh, come vedi, come vedi, hai fatto sognare quattro generazioni. Quattro generazioni e quattro generi diversi di musica, cioè pazzesco, veramente. Nel mio team mi serve proprio una voce come la tua. Eh, figura. Proprio questa. Alla età ne serve sempre quella che fa. Si, mi serve. Si fa una cazzura pianoforte. No, no. Io invece no. Invece no. Io... A mi piacerebbe suonare il pianoforte per te durante il percorso e farti cantare sulle nuve. No, no. Quanti coach vorrebbero Alida nel loro team. Mi so girata per prima. Odio mamma, adesso... Adesso devi... Ora devi scegliere. Devi scegliere. Di qua... Io pensavo che per il mio genere, il mio modo di intendere così la musica... Beh, allora, scusa, eh... Di essere più adatta... Nella squadra dei Carrisi. Benvenuta. Con la D maiusco. Benvenuti. Manuela senza pace. Benvenuti. Benvenuti. Appare divisioni.